A quanto pare ti sei impegolata con esseri degli artigli malvagi. E sto ancora sognando. Chi è stato a farti quello? Il grambo... il grafobrancio. Il grafobrancio? Allora, è meglio che dia un'occhiata. Che vuoi fare? Deve essere purificato da chi ha qualità evaporatrici, altrimenti suppurerà e si putreferrà. Preferirei di no. Starò bene non appena mi sveglierò. Lascia almeno che te lo fassi, mia cara. Dì un po', com'è che ti chiami? Alice. Quella? Alice? Si è dibattuto parecchio di questo. Non mi sono mai interessato di politica.